per la prima volta in abruzzo in parte del ship con noto sondaggi domenica 10 marzo alla chiusura dei seggi solo sul rete 8 gli exit poll e le proiezioni elettorali in tempo reale in esclusiva per l'abruzzo e per tutto il territorio nazionale i risultati delle elezioni regionali 2024 già dalle ore 23 domenica 10 marzo dalle ore 22 e 30 rete 8 il centro in diretta non stop